buongiorno da auto accessori fratelli puiglia e oggi il nostro amico pier luigi è venuto ad installare un impianto ai fi una bellissima fiat 500 il nostro collaboratore giro sta eseguendo l'installazione stiamo installando un auto radio pioneer con un bellissimo sub a bazooka pioneer la macchina è una fiat 500 abarth e il cliente ci ha richiesto una installazione a opera d'arte trovate questi accessori e tanti altri da auto accessori puiglia sala consilina o sul nostro sito www auto accessori puiglia puntocom